Dopo le difficoltà economiche dei primi anni, con un piano di promo commercializzazione poco efficace e un mutuo che pesa ancora sulle spalle dei riccionesi, la struttura congressuale Palariccione negli ultimi cinque anni è in forte crescita in termini di presenze. Nel 2018 i congressisti sono stati 86.000, il 26% in più dell'anno prima e anche per il 2019 i numeri non ancora ufficiali sembrano buoni. Siamo molto positivi, molto felici del lavoro che è stato fatto in questi ultimi anni, stiamo raccogliendo i frutti, la città risponde, la città è entusiasta. Qual è il vostro target di riferimento? A chi è che cercate di farvi conoscere? Sicuramente nelle aziende, il nostro target di riferimento è quello aziendale, abbiamo avuto un'ottima risposta anche sul territorio, nel senso che ci stanno apprezzando anche le aziende del territorio. Quante aziende decidono poi di rimanere di edizione in edizione a Riccione? Una metà sono clienti nuovi, una metà sono clienti ormai consolidati, fidelizzati. Il territorio quanto è importante, la sua capacità ricettiva e quanto vi aiuta nel vostro lavoro? Ovviamente viene scelta prima la destinazione e poi il contenitore, perciò un territorio che risponde è per noi un elemento fondamentale nella riuscita della nostra promo commercializzazione. è un'ottima risposta.